Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. In tanti mi avete chiesto che tipo di allenamento faccio, oggi staremo insieme e farò un allenamento di forza, questo per sfatare il fatto che le donne non devono usare pesi, io li uso costantemente soprattutto nel periodo dove mi muovo tanto e se non mi alleno dimagrisco, quindi oggi staremo insieme e faremo tre esercizi, deadlift, bench press, cioè panca e barbell bent e farò il rematore. Musica Il nostro allenamento di oggi è terminato. Esercizi che abbiamo visto, deadlift, bench press, barbell bent row, tre ripetizioni, cinque round, pausa di un minuto e mezzo tra un esercizio e l'altro, alla fine di ogni round facciamo due minuti e mezzo di resta, di riposo. Un messaggio in particolare per le donne, fate lavori di forza, vi aiutano a rimanere e magre, non vi ingrossano, basta che il movimento tecnicamente sia fatto bene, quindi per qualsiasi dubbio mandatemi i vostri filmati, sarò felice di guardarvi e di rispondervi. Buon allenamento a tutti, noi ci vediamo un giovedì per il numero di Donna Moderna con il lavoro con i kettlebell, crossfit navigli, Donna Moderna, Sara Ventura. Ciao a tutti!